Domenica alle ore 14 ritorna il Carnevale Arcolano con un'iniziativa completamente dedicata ai più piccoli presso il parco della Mondoteca di Via Valentini. I più piccoli avranno la possibilità di provare ad essere acrobati, giocolieri per un giorno con un'associazione di circo che sarà a loro completa disposizione per tutta la giornata dalle ore 14 fino alle ore 18 e 30. Ci sarà ovviamente lo spazio per altri laboratori con al centro le nostre associazioni, la consulta donne e anche stand gastronomici, la pentolaccia quindi davvero un appuntamento immancabile per i bambini ma non solo perché rievocando il Carnevale Arcolano che ha fatto storia tra gli anni 70 e gli anni 90 ci sarà la possibilità di vedere una mostra di foto storiche dove tanti si ritroveranno in maschera come era usanza di un tempo ad Arcola. Quindi appuntamento rinnovato dalle ore 14 al parco della Mondoteca dove ha sede anche la Proloco Arcolana in via Valentini davvero un appuntamento da non mancare con la possibilità ovviamente di mascherarsi per tutti e premi per i più piccoli ma anche per i più grandi.